Musica Cresce il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati. In Liguria è istituito il bando per tutori volontari. L'elenco sarà formato dal Tribunale per minori. L'attenzione agli ultimi viene ribadita dal Papa nel messaggio inviato ai leader mondiali del G20 in corso in Germania a priorità, scritto Francesco, ai poveri e agli esclusi. Con l'estensione a tutta la regione dello stato di pericolosità per gli incendi permane l'obbligo di non accendere fuochi. I popieri di tutta la Liguria intanto lamentano gravi carenze a livello di personale. Inaugurato a Zoagli il sagrato restaurato della chiesa parrocchiale. Oltre a un milione e mezzo di ciottoli sistemati secondo l'anticarte del Risseux. Un museo dedicato alla sedia leggera di Chiavari grazie alla donazione di Anna Marchese. Messo a disposizione l'ex laboratorio del marito in via Piacenza a Chiavari. Oggi una prima presentazione, l'apertura nel 2018. Marco Gallo, una storia di fede sorprendente. Presentato a Chiavari il libro con gli scritti del giovane morto in un incidente stradale. Gli hanno raccolti i genitori, le sorelle e gli amici. Buonasera ai telespettatori di Tiguglia. Oggi bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione. Il tema dei migranti in apertura nel nostro telegiornale. La nostra epoca fa i conti con il fenomeno delle migrazioni che in realtà è sempre esistito. Ma in questo momento sta caratterizzando il dibattito nella comunità internazionale. E interroga da vicino anche le comunità locali. Uno degli aspetti che sta emergendo in questi mesi è quello dei minori non accompagnati. Che sono davvero tanti e necessitano di protezione e accoglienza qualificata e sensibile. Una legge in questo senso è stata pubblicata in aprile. La Liguria è fra le prime cinque regioni italiane ad aver aperto il bando per istituire l'elenco dei tutori dei minori stranieri non accompagnati. Facciamo il punto. Un aspetto del fenomeno migratorio sottostimato nelle sue implicazioni è quello dei minori non accompagnati. Tanti i bambini e gli adolescenti che arrivano sulle coste italiane da soli, senza genitori o parenti prossimi. In alcuni casi i genitori muoiono durante le traversate del deserto, a causa delle violenze subite o cercando di passare da una costa all'altra del Mediterraneo. In altri casi vengono inviati in Italia da soli nella speranza, per loro, di un futuro migliore. In Sicilia già molte famiglie si sono aperte all'accoglienza, ma anche la Liguria è terra di frontiera. Al confine con la Francia, secondo i dati resi noti dal comune di Ventimiglia alcune settimane fa, Nel corso del 2016, 187 minori sono stati segnalati alle forze dell'ordine, 67 quelli segnalati nel corso del primo trimestre del 2017. Il 7 aprile di quest'anno è stata varata la legge numero 47, che elenca le disposizioni in materia di protezione di minori stranieri non accompagnati. All'articolo 11, questa legge istituisce l'elenco dei tutori volontari presso ogni tribunale per i minorenni. In forza di tale norma, il difensore civico della Regione Liguria e garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Francesco Lalla, ha predisposto un bando pubblico, senza data di scadenza, che tiene conto delle linee guida predisposte dall'autorità nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Possono fare domanda persone di cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, residenti in Italia, che abbiano compiuto 25 anni, diplomati, senza precedenti penali e nel pieno possesso dei diritti civili e politici, con condotta ineccepibile e in possesso del tempo e delle energie adeguati al compito. Le domande andranno inoltrate agli uffici del garante regionale, che le verificherà e le sottoporrà al Tribunale per i minorenni. Gli aspiranti tutori dovranno superare un colloquio e una volta selezionati seguiranno un corso di formazione. Solo a questo punto saranno iscritti nell'elenco apposito. Sarà istituito anche un sistema di supporto, accompagnamento e monitoraggio del loro operato. E il pensiero di Papa Francesco nei confronti dei migranti è anche espresso attraverso un tweet nella giornata di oggi. I migranti sono nostri fratelli e sorelle che cercano una vita migliore, lontano dalla povertà, dalla fame e dalla guerra. Queste le parole affidate ad un tweet di Papa Francesco. E l'attenzione agli ultimi è il cuore del messaggio che il Pontefice ha rivolto ai leader mondiali, riuniti al vertice del G20 in corso alla fiera di Hamburgo in Germania. Tra i punti dell'esortazione di Francesco c'è l'invito a dare priorità ai poveri e agli esclusi. Vediamo il servizio. Quattro principi d'azione necessari per la costruzione di società fraterne, giuste e pacifiche. Il Papa traccia un'agenda alternativa ai grandi del G20. Il tempo è superiore allo spazio e è il primo. Per Francesco non esistono soluzioni immediate e del tutto soddisfacenti alle problematiche mondiali. Il dramma delle migrazioni ne è una prova. Tuttavia si possono mettere in moto processi capaci di offrire soluzioni progressive e non traumatiche e di condurre in tempi relativamente brevi a una libera circolazione e alla stabilità delle persone che siano vantaggiosi per tutti. C'è bisogno, scrive il Papa, di dare priorità assoluta a poveri, profughi, sofferenti, agli sfollati e agli esclusi, senza distinzione di nazione, razza, religione o cultura, e di rigettare i conflitti armati. L'unità prevale sul conflitto è il secondo principio. La guerra non è mai una soluzione, ricorda il Santo Padre, che chiede alle parti di impegnarsi a ridurre i livelli di conflittualità, a fermare la corsa agli armamenti e a rinunciare a coinvolgersi direttamente o indirettamente nei conflitti e di accettare di discutere in modo sincero e trasparente ogni divergenza. È contraddittorio e incoerente l'apparente unità in fori comuni, a scopo economico-sociale, e la voluta o accettata persistenza di confronti bellici, dice Francesco. Terzo principio. La realtà è più importante dell'idea. Le nuove ideologie, guidate dai mercati e dalla speculazione finanziaria, denuncia al Pontefice, lasciano una scia dolorosa di esclusione, di scarto e di morte. Nei successi politici ed economici, invece, si riscontra sempre un sano e prudente pragmatismo, guidato dal primato dell'uomo e dalla ricerca di integrare e di coordinare realtà diverse, e a volte contrastanti, a partire dal rispetto di ogni persona. Il Papa auspica dunque che il vertice di Hamburgo sia illuminato dall'esempio di leader europei e mondiali che hanno sempre privilegiato il dialogo e la ricerca di soluzioni comuni. Infine, il quarto e ultimo principio. Il tutto è superiore alle parti. È l'invito di Francesco a risolvere i problemi in concreto, dando ascolto a ogni parere e opinione, considerando le ripercussioni su ogni paese e i loro cittadini, di continuare a promuovere il multilateralismo, affinché le soluzioni siano veramente universali e durature, a beneficio di tutti. Torniamo adesso ai temi legati al nostro territorio. Lo stato di grave pericolosità per gli incendi è stato esteso a tutta la Liguria da ieri. Infatti, il provvedimento riguarda anche l'area della Spezia. Ma come i Vigili del Fuoco affrontano questa situazione? Secondo Luca Infantino, del sindacato CGL Funzione Pubblica, lo fanno con carenza d'organico e criticità sui contratti. Sentiamo l'intervista. Quello che consigliamo a tutti è chiaramente di accendere qualsiasi tipo di fuoco in queste giornate così pericolose, determinate chiaramente dal clima, che come tutti sapete è molto caldo. Non accendere fuochi è l'avvertimento dei Vigili del Fuoco dopo l'estensione dello stato di grave pericolosità per gli incendi a tutto il territorio regionale e per evitare situazioni come quella recente d'Imperia. L'attenzione è alta, visto il clima caldo e secco di questi giorni. Il corpo dei Vigili del Fuoco, peraltro, affronta il periodo con poche risorse e con organici in sofferenza. Abbiamo identificato su scala regionale una carenza di organico pari al 12% rispetto alle dotazioni organiche previste, che già sono limitate e limitative. Teniamo conto che sulla scala nazionale della carenza di organico è pari al 6%, quindi siamo al doppio di carenza rispetto alla situazione generale sul resto del territorio del Paese. Sulla questione del personale è in corso un'avvertenza. Il 12 luglio ci sarà il tentativo di conciliazione davanti alla direzione regionale Ligure, nel mentre la CGL ha dichiarato lo stato di agitazione generale a livello nazionale. Il sindacato inoltre lamenta una situazione precaria anche per i contratti. straordinari bassi, lavoratori sempre pronti ad intervenire, ma con un salario non sufficiente, la mancanza di assicurazione sanitaria e così via. Novità degli ultimi giorni, la Liguria è stata convocata al tavolo nazionale in programma il prossimo 27 di luglio. I contratti nel pubblico impiego sono bloccati dal 2009, quindi sono 8 anni di blocco contrattuale e questo si è determinato chiaramente negli anni e non ci ha consentito, in quanto il governo non ha mai stanziato le risorse ai governi che si sono succeduti, di avere un gap di 8 anni di deficit. Questo comporta, in termini generali, una perdita sul salario da parte dei lavoratori di circa 300 euro rispetto a quello che è stato l'andamento del costo della vita negli ultimi anni. È un incendio, si è sviluppato questo pomeriggio in località Pontetto, a Moleone di Cicagna. Le fiamme divampate intorno alle 14 hanno interessato circa un ettaro di boscaglia e hanno distrutto un capanno per il rimessaggio degli attrezzi. Non si esclude l'origine dolosa del rogo. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, degli staccamenti di chiaveri con tre mezzi e quattro squadre dei volontari antincendio boschivo del radioclub Levante, rispettivamente Cicagna, Lavagna, San Colombano e Bargagli. L'intervento si è concluso intorno alle 18 quando sono iniziate le operazioni di bonifica dell'area. E ancora cronaca denuncia per furto aggravato ai danni di un cittadino straniero a Lavagna. La denuncia era stata presentata dal rappresentante di uno stabilimento balneare che si trova a Caviborgo, che aveva verificato il furto di diversi generi alimentari all'interno della sua attività per una totale di 300 euro. Secondo gli elementi raccolti dai carabinieri, il responsabile del furto sarebbe un cittadino straniero di 29 anni senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell'ordine che è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Lavagna. E la chiesa parrocchiale di San Martino a Zoagli ha un nuovo sagrato. La piazza, che si trova davanti alla chiesa, a testimonianza dell'arte antica del Risseu Ligure, è stata restaurata e restituita alla cittadina. Vediamo. È tornato a splendere il sagrato della chiesa parrocchiale di San Martino a Zoagli. Fino a qualche tempo fa, poco sicuro, è stato recuperato con la tecnica del Risseu. Oltre un milione e mezzo di ciottoli, in parte recuperati, in parte provenienti dalla spiaggia di Zoagli, in parte dal manganese della Val Graveglia, sono stati posizionati sotto la direzione della soprintendenza. La spesa è 725 mila euro, di cui 25 mila per la progettazione. È fatta con soldi delle orsoline di Piacenza, che hanno dovuto versare per fare il cambio destinazione d'uso di una scuola in civile abitazione. Ci ha permesso di fare quest'opera e dare e donare quest'opera in una sicurezza enorme rispetto a prima ai cittadini di Zoagli. La tecnica del Risseu è un'antica tradizione ligure. Risseu significa pietra ruscellata. Era un momento di fede, perché erano proprio i fedeli che andavano nelle gee dei fiumi e nelle spiagge a raccogliere i litotipi che l'artigiano progettista dettava con grande rigore alla comunità, diceva che colori servivano e se quel colore non era presente nel bacino mineralogico di quella comunità si andava nei territori vicini a raccogliere i colori che servivano per comporre questi tappeti. Per la comunità di Zoagli un momento di festa, perché come ha sottolineato il parroco inaugurare un sagrato significa inaugurare un luogo d'incontro. Come dice la parola stessa c'è qualcosa di sacro e per quello che ho scoperto finora credo che la sacralità sia proprio nell'incontro, nello scambio, nel fare spazio l'uno con l'altro, non avere paura di riempire sempre tutto ma cercare anche di custodire questi spazi di relazione. La piazzetta accanto al sagrato è stata intitolata Don Enrico Arado che fu parroco di Zoaldi negli anni 70 e 80. Un motivo di gioia per il vescovo Alberto Tanasini che è ringraziato per l'intitolazione nell'omelia della messa celebrata al termine della cerimonia. È una testimonianza del fatto che i nostri preti sono vicini al loro popolo, ne sanno cogliere il cuore e nello stesso tempo si inseriscono nella vita di coloro che sono loro affidati. Dal vescovo un invito ad incontrarsi sulla piazza rinnovata. Se da una parte la cultura di oggi tende all'individualismo, la tradizione dei nostri paesi invece richiama la comunità e il restauro così fine aiuterà certamente a incontrarsi. I festeggiamenti patronali in onore di Maria a Chiavari e Rapallo si concluderanno domani. A Chiavari nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto alle 10 ci sarà la Santa Messa di ringraziamento per la società operaia cattolica di Nostra Signora dell'Orto. Sempre domani nel pomeriggio alle 15.30 però al Santuario Mariano di Montallegro a Rapallo si svolgerà la cerimonia dello scioglimento del voto con la presenza delle autorità civili e dei componenti dei sestieri. La Santa Messa sarà presieduta dal vescovo Monsignor Alberto Tanasini. E in occasione della festa patronale di San Siro a Santa Margherita Ligure domani la Messa delle 10.30 sarà presieduta dal vescovo Diocesano. Alla sera alle 21 il Vespro e la processione per le vie del quartiere guidate da Don Beppe Couloma, Picario Foraneo di Rapallo e Santa Margherita Ligure. Per quanto riguarda la festa in piazza stasera alle 21.45 il Comune offre la serata danzante con l'orchestra in barahonda. Domenica al termine della processione e alle 23 lo spettacolo pirotecnico. E anche Varese Ligure in Alta Valdivara in festa in questo fine settimana. Questa sera alle 21.30 in piazza Feschi si terrà il concerto d'estate organizzato dalla Fisarmonica Varesina. Mentre domani e domenica si svolgeranno le celebrazioni in onore di Nostra Signora della Visitazione con la Messa Solenne al mattino e alle 21.00. Dopo i vesperi ci sarà la processione con lo spettacolo pirotecnico. Con la festa di domani di fatto prende avvio la stagione estiva di Varese Ligure che quest'anno propone diverse iniziative tra novità e conferme. Sentiamo. Si inizia con il 15 di luglio con un appuntamento rivolto in particolare ai giovani. Che cosa si svolgerà? Sì, abbiamo portato questa iniziativa un po' nuova che è la Silent Disco. Si svolgerà nella piazza del Castello di Varese in collaborazione con la Mogioti di Sassi Levante che è l'organizzatrice della Silent Disco forse più famosa d'Italia o comunque sia che numericamente raccoglie più persone. Noi ci proviamo a portare questo evento un po' nell'entroterra. Siamo i primi e gli unici nella provincia di Spezia a fare questa cosa qui, rivolta ai giovani perché comunque sia bello anche riportare un po' la gioventù nei nostri paesi e ci proviamo il 15 di luglio a Varese. Questo sarà un appuntamento singolo ma c'è una serie di eventi ricorrenti nel corso delle settimane tra cui anche il cinema all'aperto. Sì, siamo partiti già questo lunedì col cinema all'aperto a Varese continuerà per tutto il mese di luglio sono due appuntamenti settimanali lunedì e venerdì avremo cinema d'animazione, di commedia, un po' drammatici, storici, un po' tutto per prendere tutte le persone che piace il cinema. Dove si svolgono le proiezioni? Si svolgono la piazza dei Fieschi dove si svolgeva la lirica che ahimè quest'anno purtroppo non si svolgerà ma il prossimo anno si sta già rimettendo le basi per farla partire. Spazio anche allo sport con tornei che chiameranno anche persone da tutta la vallata. Sì, a fine luglio partirà il torneo di calcio 5 nell'impianto sportivo comunale di Varese si svolgerà per tutto il mese di agosto di solito ci sono 12-13 squadre quest'anno speriamo di potenziare ancora di più. E poi da non dimenticare il fresco che si può vivere nell'entroterra ma non tanto di giorno ma di sera comunque si può respirare. Sì, purtroppo anche quest'estate è molto calda però da noi più o meno si respira comunque sia c'è anche la possibilità della piscina comunale di rinfrescarsi delle camminate, le passeggiate nei nostri boschi e alla sera ovviamente è bellissimo stare alla perpesi un gelato e si sta molto bene. Echiava rilancia una sfida culturale l'apertura di un museo dedicato alla Campanina, la sedia leggera questo grazie alla donazione di Anna Marchese che ha messo a disposizione della città l'ex laboratorio del marito Guido Rocca il museo aprirà nel 2018 oggi c'è stata una prima presentazione alla società economica vediamo Un nuovo museo dedicato alla sedia leggera di Chiavari perché questa idea? Oggi a far notizia di solito sono i musei che chiudono in Italia come in Europa Chiavari ha questa nuova sfida lanciando un nuovo museo grazie a un'idea di una cittadina chiavarese che è Anna Rocca Marchese che ha deciso di donare alla società economica uno spazio molto affascinante che è quello dell'ex laboratorio del marito un mobiliere seggiolaio chiavarese che sarà la sede del nuovo museo Dove si trova questo ex laboratorio? Dove nascerà il museo? È in via Piacenza numero 80 è composto da un locale di 400 metri quadri diviso principalmente in due aree rettangolari due sale grandi e anche una veranda nella quale appunto si potrà ricevere ventili Questa è la veranda all'allestimento? Sono stati già fatti lavori nell'impianto elettrico reso a norma avevano avuto l'incarico dei professionisti per sistemare anche poi nel futuro gli immobili con l'aiuto di volontari ed amici della signora Anna Rocca Oltre agli spazi espositivi che cosa c'è nella donazione che lei ha voluto fare? Ci sono tutti i macchinari che usava il mio marito per la costruzione di mobili di arredamento e di struttura sedie e poi ci sono le seste dei mobili diciamo qualcuna di cartone qual come si faceva allora ma proprio ce ne sono ci sono le pareti completamente piene e poi ci sono sedie ce ne saranno 300-400 grezze che mio marito faceva e le metteva lì l'idea in fondo era di un domani che serva per gli artigiani per il pop per tutti e l'apertura del museo in questione sarà anticipata dall'inaugurazione di una mostra allestita proprio nell'ex laboratorio di Guido Rocca l'inizio di una sedia questo il titolo dell'esposizione sarà aperta dal 16 settembre al 14 ottobre di quest'anno un duplice lutto ha colpito la comunità leivese di San Rufino all'ospedale di Sestre Levante è mancato Michele Solari detto Michè aveva 74 anni e da qualche tempo era sofferente era una figura molto conosciuta in paese primo genito di quattro figli era uomo schietto e della tempra forte imprenditore legato alla sua terra e alle tradizioni è stato tra coloro che ha mantenuto vivo il servizio di portatore dei caratteristici crocefissi linee durante le processioni avviando molti giovani a questa pratica in parrocchia la sua presenza è stata costante per molti anni durante le feste di San Giovanni Battista e della Madonna della Guardia lunedì il giorno in cui sono fissate le esequie saranno presenti alla cerimonia funebre anche i crocefissi di Ruta e di Lavagna lascia Olga i fratelli Giovanni ed Eugenio con le rispettive famiglie nipoti e pronipoti domani alle 19.30 sarà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di San Rufino a Levi dove lunedì alle 11 saranno celebrati i funerali le ceneri saranno tumulate nel cimitero parrocchiale dove riposano i genitori Matilde e Vittorio e a poche ore di distanza è mancata anche Maria Grazia Benelli in Solari conosciuta come Graziella aveva 72 anni ed era affetta da una grave malattia l'hanno accompagnata con affetto il marito Tino la figlia Luana infermiera professionale il figlio Luca maresciallo Maggiore luogotenente dei carabinieri e le cure del personale del reparto di oncologia dell'ospedale di Sestri Levante e dell'ospice di Chiavari lascia oltre al marito e ai figli le tre nipoti Chiara Marzia e Federica e i parenti tutti il rosario in questo caso sarà recitato domani alle 19 nelle camere mortuari e dell'ospedale di Chiavari i funerali saranno invece lunedì alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Rufino di Levi ai familiari tutti esprimiamo le condoglianze e la vicinanza nella preghiera da parte di tutto lo staff di Telepace domani sera alle 21.10 su Telepace 1 al canale 15 trasmetteremo la registrazione integrale dell'incontro promosso a Chiavari dall'associazione amici di Simone Tanturli per la presentazione del libro anche i sassi si sarebbero messi a saltellare che raccoglie gli iscritti di Marco Gallo il giovane originario di Casarza Ligure che è rimasto vittima di un tragico incidente stradale alcuni anni fa i genitori le sorelle e gli amici hanno messo insieme questa raccolta che è una biografia ma soprattutto un'impressionante testimonianza di come la fede possa cambiare la vita di un adolescente sentiamo cosa avete scoperto dopo la morte di Marco beh innanzitutto la prima fatto incredibile che ci siamo trovati in mezzo a tante persone a tanti amici anche subito dalle prime ore insieme in silenzio in preghiera e poi l'altro fatto di cui non ci capacitiamo perché realmente in questi termini e l'abbiamo scoperto la sera stessa dell'incidente abbiamo visto che a fianco al suo letto vicino al comodino sul muro accanto al crucifisso di San Damiano che lui si era voluto appendere c'è una scritta abbiamo visto una scritta quello che aveva scritto perché cercate tra i morti colui che è vivo scritta in stampatello maiuscolo o la sera prima o quella mattina insomma perché prima non c'era Marco nei suoi scritti ha dedicato a diverse riflessioni alcune veramente impressionanti al tempo ma il vostro rapporto con il tempo com'è cambiato dopo questo fatto sicuramente Marco è sempre stato molto impaziente aveva sempre questo assillo di perdere il tempo che le cose non fossero belle succose come diceva lui adesso è diverso è come se da un certo punto di vista è come se il tempo interessasse molto di meno cioè quello che interessa adesso è l'istante nel senso che non siamo padroni di niente quindi non sappiamo cosa succederà però sappiamo che in questo momento presente può accadere qualcosa di grande il mistero si comunica ora e quindi forse è una libertà che prima non immaginavo neanche sul fatto che che ora davvero il Signore mi può parlare il dolore della perdita di un fratello per morte improvvisa è qualcosa che veramente stravolge ogni categoria di pensiero ogni pregiudizio ogni preconcetto e quella fede debole che io avevo come quasi convenzione sociale è crollata e ho incominciato a cercare di prendere sul serio le frasi e i segni che Marco mi ripeteva negli ultimi anni e ho incominciato come aveva fatto lui a verificare la strada e i 14 ragazzi del Trinity Chamber Choir di New York sono stati i protagonisti di recente di un concerto gospel che si è tenuto nella basilica di Santa Margherita Ligure la serata è stata ripresa integralmente da Telepace sarà trasmessa questa sera su Telepace 1 al canale 15 a partire dalle 21.10 e adesso nella nostra scheda altri appuntamenti in agenda per la giornata di domani e quella di lunedì Appuntamenti in agenda per domenica 9 luglio nell'ambito dell'iniziativa estate 2017 a Villa Vicini esiterà un'estemporanea di pittura il ritrovo per chi volesse partecipare e alle 8 alla stazione di Zoagli per le iscrizioni dalle 9 alle 16 i partecipanti avranno a disposizione il tempo necessario per realizzare la loro opera alle 17 e si svolgeranno le premiazioni si ricorda che i concorrenti dovranno provvedere personalmente alle attrezzature per dipingere prende il via a cavi la stagione a cura del CIV cavi arenelle a partire da questa data tutte le domeniche estive saranno animate dal mercato domenicale composto da una dozzina di banchi che rimarranno aperti dalle 8 fino alle 13 appuntamento per gli appassionati di filatelia neumismatica e cartofilia nella sala livellare di via del Pino a Chiavari dalle 9.30 alle 12.30 si riunirà il circolo culturale filatelico in Chiavarese invitando tutti gli interessati a partecipare l'associazione sportiva la prima stella promuove l'iniziativa camminando che propone facili passeggiate guidate immersi nella natura del territorio per domani in programma un'escursione di media difficoltà con partenza alle 10 da Framura per raggiungere Deiva Marina e ritorno al luogo di partenza alle 17 a Rapallo un'ottantina di concorrenti di tutte le età si sfideranno dalle 10 in una gara regionale di trial la manifestazione siderà su un percorso allestito davanti alla chiesa di San Pietro di Novella alle 11 nella sede della Proscogli in via Apreli a Chiavari avrà luogo la premiazione del secondo concorso fotografico Proscogli 2017 promosso dall'associazione i boschi attorno al Lago delle Lame nel comune di Rezzoaglio ospiteranno l'ultima giornata del Celtic Festival manifestazione culturale che prevede attività e animazione a tema celtico dalle 12 fino alla mezzanotte a Carasco si aprono le celebrazioni in onore di Sant'Alberto a Paggi i festeggiamenti civili avranno inizio alle 12.30 con l'apertura degli stand gastronomici seguirà un pomeriggio di danze e alle 18.30 la messa con la benedizione dei panini alla sera la festa continua a partire dalle 19.30 con la cena negli stand e la musica offerta dall'orchestra Monique e Onda D'Urto si concludono a Rapallo i festeggiamenti in occasione del nono raduno dei rapallin con il pranzo in programma alle 13 nel ristorante Vesuvio i presenti parteciperanno poi alla celebrazione dello scioglimento del voto al santuario di Montallegro nel pomeriggio a carro proseguono le manifestazioni sportive in programma per l'estate con lo scopo di promuovere lo sport dalle 16 alle 19 e dalle 21 fino alle 23 le frazioni del comune si sfideranno in un paglio di tiro con l'arco seconda giornata di regate per l'edizione 2017 del trofeo Baia del Levante Coastal Contest iniziativa alla quale partecipano equipaggi composti da sindaci assessori e consiglieri del territorio con lo scopo di valorizzare le coste dei nostri mari l'intera giornata si svolgerà nelle acque di fronte a Seste Levante dove alle 17 si terrà la premiazione la chiesa di San Lorenzo della Costa a Santa Margherita Ligure apre le sue porte alle 17 per far scoprire al pubblico il trittico di Sant'Andrea uno dei più significativi esempi di arte fiamminga in Liguria il dipinto è stato realizzato nella città di Bruges intorno alla fine del XV secolo e testimonia gli stretti rapporti commerciali tra Genova e le Fiandre l'opera è visibile durante la visita guidata gratuita disponibile in tre lingue italiano inglese e francese si ripeterà nella giornata di domenica 13 agosto il progetto Enjoy Genova propone una passeggiata al tramonto sul sentiero panoramico di Punta Manara a Sestri Levante l'incontro per partecipare all'escursione per la quale è obbligatoria la prenotazione alle 17.30 alla stazione di Sestri Levante dove i partecipanti incontreranno le guide ambientali della cooperativa Terra Mare che li accompagneranno lungo il percorso ultimo giorno di esposizione al castello Cinquecentesco di Santa Margherita Ligure per la mostra personale di Agostino Lertora dal titolo Cose di Mare e di Riviera l'orario di apertura al pubblico è dalle 18 alle 23 il coro quattro canti si esibisce a Zoagli nella piazza 27 dicembre a partire dalle 21 sotto la direzione del maestro Gianni Martini saranno eseguiti i brani a cappella o con l'accompagnamento di una chitarra scelti per rappresentare il panorama della musica italiana e internazionale a partire dagli anni 60-70 fino ai nostri giorni la serata di lavagna invece sarà animata dall'iniziativa Note in piazza che si terrà in piazza della libertà con inizio alle 21 uno sguardo agli appuntamenti anche per lunedì 10 luglio proseguono a Carasco i festeggiamenti civili in onore di Sant'Alberto a Paggi alle 19.30 avrà inizio la serata con l'apertura degli stand gastronomici a partire dalle 21 l'orchestra Giuse e Alessia Bende allieterà la serata danzante a Sestri Levante alle 17.30 nella sede del Circolo Acli Antoniano saranno esposti i manufatti realizzati dalle partecipanti al corso sociale di taglio e cucito organizzato dall'associazione seguirà una pericena a Moneglia nell'ambito dell'iniziativa Incontri nel Salotto d'Europa ci sarà l'incontro con Cesare Bocce e Daniela Spada i due hanno vissuto in prima persona il dramma di un ictus insieme hanno saputo affrontare la situazione e superare le difficoltà la coppia racconterà la propria esperienza alle 21.30 nella terrazza dell'hotel Moneglia infine la filarmonica Cristoforo Colombo di Santa Margherita Ligure farà esibire alcuni allievi della classe di canto in un concerto dal titolo Il mio canto libero l'iniziativa si terrà sul palco dell'Anfiteatro Bindi a partire dalle 21.30 i brani che saranno eseguiti sono stati selezionati sia dal repertorio della tradizione italiana sia dai dischi di cantanti contemporanei In chiusura la notizia di sport Loris Galvane e Giorgio Fiorentini del circolo pescatori dilettanti rapallesi sono i nuovi campioni italiani di Bolentino le finali si sono disputate a Genova al circolo sportivo La Marinetta dove si sono dati appuntamento da tutta Italia i migliori equipaggi nazionali 27 in tutto Galvane e Fiorentini li vediamo in foto che l'anno scorso a Rapallo avevano chiuso al secondo posto hanno travolto gli avversari vincendo entrambe le prove soddisfatto per il risultato il presidente del circolo rapallese Riccardo Repetto Loris e Giorgio sono senza dubbio in questa specialità tra i migliori se non i migliori in assoluto in Italia a nome del circolo li ringrazio pubblicamente per noi averli come tesserati è un onore e con questa notizia si conclude questa edizione di Tigulli Oggi vi ricordo che l'informazione torna lunedì alle 7.30 con il buongiorno di Teleradiopaccio alle 12.45 con la prima edizione delle TG13 tutte le notizie le trovate però sul nostro sito internet sempre all'indirizzo www.teleradiopaccio.com grazie per essere stati con noi buon proseguimento di serata e buona domenica www.teleradiopaccio.com 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 Guota www.teleradiopaccio.com www.teradiopaccio.com Grazie a tutti.